buona giornata che lo spirito ci accompagni nel profondo nel segreto del cuore per ascoltare Gesù parola di vita dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù disse ai giudei in verità in verità io vi dico se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno gli dissero allora i giudei ora sappiamo che sei indemoniato Abramo è morto come anche i profeti e tu dici se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto anche i profeti sono morti chi credi di essere rispose Gesù se io glorificassi me stesso la mia gloria sarebbe nulla chi mi glorifica è il padre mio del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete io invece lo conosco se dicessi che non lo conosco sarei come voi un mentitore ma io lo conosco e osservo la sua parola Abramo vostro padre esultò nella speranza di vedere il mio giorno lo vide e fu pieno di gioia allora i giudei gli dissero non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo rispose loro Gesù in verità in verità io vi dico prima che Abramo fosse io sono allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui ma Gesù si nascose e uscì dal tempio la polemica è diventata ormai incandescente espressioni che rivolgono Gesù del tipo sei indemoniato oppure chi crede di essere espressioni che si usano anche oggi ci credo di essere poco prima di arrivare le mani dice la tensione che c'è profonda infatti i giudei alla fine vogliono uccidere Gesù hanno le pietre in mano per gettarle contro però non è giunta l'ora di Gesù e Gesù se ne va ma è un Vangelo non certamente facile e potremmo dire e uno potrebbe dire ben questa roba qua cosa c'entra con la mia vita guarda e se questi giudei fossero proprio te io se fossimo noi il Signore oggi rivolge questa parola a quella parte che c'è in noi che è sempre una parte non credente cioè non disposta ad ascoltare il Signore ribelle in fondo il peccato originale è un peccato di ribellione di disobbedienza di non ascolto del Signore la fede invece nasce dall'ascolto e noi sappiamo che nel mondo ebraico quando l'ascolto significa obbedienza perché vale la pena ascoltare Gesù perché dice Gesù se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno cioè la posta in gioco è la vita eterna chi ascolta me perché noi non ascoltiamo le parole di Gesù Gesù non è un messaggio Gesù non dà messaggi dà se stesso sempre per cui prendere in mano il Vangelo alla fine vuol dire contemplare un volto ascoltare il Vangelo vuol dire compromettersi con il Signore vuol dire averlo durante la giornata fianco a fianco vuol dire starci con lui vuol dire entrare in contatto con lui vuol dire accoglierlo in casa vuol dire cucinare con lui vuol dire stirare con lui vuol dire uscire con lui essere sempre con lui ecco l'ascolto ascoltare Gesù e obbedire alla sua parola e ascoltare Gesù alla fine vuol dire ascoltare il padre perché Gesù conosce il padre perché queste sono i due esiti della nostra vita o vivere incentrati su noi stessi o vivere appoggiati e incentrati al padre ma noi sappiamo che sì se noi crediamo in noi stessi se ci appoggiamo su noi stessi alla fine l'esito sarà carne per i vermi cibo per i perché torniamo alla terra mentre chi ascolta il Signore dimora nell'amore e ciò che è avvolto dall'amore rimane per sempre alla fine il paradiso è questo entrare far sì che tutta la nostra vita sia avvolta dall'amore del padre e nulla andrà perso allora anche oggi il Signore Gesù ci provoca ci provoca ci chiede di fidarci di lui di ascoltar di ascoltarlo fidiamoci del Signore ne vale la pena Gesù ecco la sua carne è tornata parola per farsi carne in noi che l'ascoltiamo che la contempliamo alla fine l'uomo diventa quello che ascolta l'uomo si trasfigura in colui che contempla tu chi ascolti chi contemple